Sindaco Palomba, una lettera al Ministero dell'Interno, alla Questura e alla Prefettura di Napoli per chiedere maggiori unità per rafforzare i controlli in questa battaglia contro la pandemia. Una lettera assieme ad altri sindaci della zona vesuviana, Porti, Cercolano, San Giorgio e altri ancora, abbiamo pensato di scriverla perché noi da soli c'è poco da fare. I controlli sono importantissimi, sono fondamentali, ma abbiamo chiesto anche l'ausilio di forze dell'ordine tipo l'esercito o rafforzare quelle esistenti. Perché i controlli? Beh, i controlli perché ultimamente noi stiamo verificando che ci sono le varianti proprio nelle zone del vesuviano, varianti che toccano anche Torre del Greco. Io nell'ordinanza di chiusura mi è stato specificato che Torre ci sono queste varianti del Covid e quindi sono delle preoccupazioni che abbiamo noi come amministratori ma poi tutti i cittadini. E i dati della città di Torre del Greco destano ancora preoccupazione. L'ultimo bollettino parla di 698 cittadini in isolamento domiciliare e 43 ospedalizzati. È salito a 105 il numero dei decessi. A breve intanto partirà la campagna vaccinale nei locali della Santissima Trinità. Dobbiamo stare in un'attenzione massima, sperando quanto prima. Ormai noi abbiamo dato anche la sede della Santissima Annunziata per i vaccini. L'Aslo ci sta lavorando. Pare che 7-8 giorni anche con l'arrivo di questi vaccini, che poi quello è l'elemento fondamentale, perché possiamo essere organizzati e strutturati. Però se non arrivano i vaccini c'è poco da fare. E questa è l'unica soluzione. Quanto riguarda le scuole, pensa che verrà prorogata la chiusura? I dati io li ho lunedì. Certamente come stiamo, non è che abbiamo un tasso, noi siamo 4 punti percentuali sulla media. Ci sono realmente tante zone che addirittura c'è il doppio e il triplo. La mia preoccupazione è stata già la prima chiusura, la questione di due plessi, ma anche tre, che noi abbiamo dovuto chiudere per il Focolai, la morte dell'insegnante. Io vedo lunedì di guardare ancora i dati, vediamo ancora i dati. Ricordo che lunedì scorso abbiamo avuto a Torre 127 casi, quindi un botto enorme. Aspetto lunedì e poi deciderò con calma decisioni che non prendo da solo, la prendo con l'Asola, la prendo con il mio dirigente, che poi alla fine dobbiamo essere noi a prenderci questa responsabilità quando ci sono queste tasse forse a carattere regionale di chi praticamente conosce e capisce molto più di un sindaco perché sono dei virologi, sono persone che fanno questi lavori, ma alla fine ci dicono con molta semplicità, sindaco decidi tu. Ecco la lettera dei sindaci che siamo diventati l'ultima ruota del carro con delle difficoltà. Ci hanno dato queste responsabilità al di sopra nelle nostre possibilità e quindi io chiedo anche capiteci ai cittadini. Molto spesso sicuramente sbagliamo, sbagliamo sempre, però alla fine siamo soli a decidere, attenzione.